Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! C'è ancora moltissimo da fare, però ho fatto tanti livelli, non vi faccio vedere l'armatura che ho addosso perché non voglio spoilerare quelle che sono state le mie scelte, però voglio parlarvene a ruota libera senza testi, senza un copione scritto perché voglio darvi le mie impressioni a caldo. Ora al momento tra l'altro ho questo scontro che mi sta mettendo un po' in difficoltà, però stanno intervenendo le guardie, è un gioco vi dico subito assolutamente mastodontico, è il classico gioco che vi dico subito quali sono i requisiti per giocarlo, non dovete avere per la testa altri giochi, non dovete avere il desiderio di giocarlo, che so lo avete comprato, non l'avete mai giocato, volete finirlo, va giocato con assoluta calma perché c'è tantissimo da esplorare, c'è tantissimo da dialogare, ci sono tantissime scelte, molte anche sottili, la storia è molto carina, il gioco non è esente da difetti senza dubbio, io voglio fare questo video anche per il fatto che avevo fatto una live, una volta l'avevamo giocato un'oretta e mezza e non mi sembrava così preciso nei movimenti e effettivamente è abbastanza legnoso. Anche la raccolta degli oggetti da terra, il looting non è così preciso, ma in realtà vi basta passare le prime due ore e poi iniziate a capire che qui lo lootate così, quando finite vicino magari a qualche cassa vi verrà da premere il mouse ripetutamente per raccogliere tutto quello che c'è per terra, vedete qua c'è la spada, la raccolgo, cioè è una cosa su cui non dico ci si passa sopra, ma ci si abitua piuttosto facilmente, quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi, il gioco sì potrebbe essere definito un pochino araccaico come sistema di controllo, come aspetto tecnico, ma erodibilissimo, li facessero tutti così. Purtroppo è passato in sordina e mi dispiace molto, la storia l'ho finita, mi è piaciuta e fa parte da quello che mi ha detto uno di voi di una trilogia. Io avevo giochichiato il primo ma senza finirlo, infatti alcuni riferimenti non li ho capiti benissimo, si narra continuamente di quello che è successo nell'1, ci sono anche dei flashback, quindi non preoccupatevi, non è impossibile anzi, però magari se c'è qualche personaggio carino del primo che qua lo rincontrate, insomma, non ve lo ricorderete, perché ogni personaggio ha proprio la sua storia, i suoi racconti, le sue confidenze, vi dà le sue missioni, potete veramente fare qualsiasi cosa. Tra l'altro la mappa nasconde cinque, adesso vi faccio vedere, potrete unirvi a diverse fazioni, questo non cambia il finale da quello che ho visto, ma vi cambia le alleanze con le altre fazioni. Avete sotto questa città, all'interno di questa porta, con questi robot un po' steampunk in difesa, avete il regno dei Morkon, vivono nella montagna, perché questo mondo è stato comunque ferito dalla caduta di un meteorite che ha diffuso questo Elex, che è questa pietra di cui non vi parlo eccessivamente, ma che è una pietra, una sostanza che può essere anche assunta dagli uomini per diventare più forti. E questi vivono i neri di tutto, vivono all'interno del loro regno, hanno creato questa, diciamo, religione in adorazione a una divinità un po' oscura, dal mio punto di vista, ma poi qui si ne può fare tutto il dibattito che volete. Se sbagli vieni punito e devi essere onesto, devi comportarti bene, se no finisce molto male per te e così finisce, insomma, potete venire via loro. Insomma, io ci dovrete comunque avere a che fare con tutte, dovete fare missioni per tutti, quindi avete modo di conoscerla e sceglierle con calma. Ma ecco, un'altra cosa su cui voglio tranquillizzarvi, dovete pensarla molto, molto tranquillamente, le vedrete tutte, vi manderanno da tutti, quindi veramente ne avrete da fare e avrete modo di conoscerli. Poi ci sono i fuorilegge, è una delle poche città che dal primo momento in cui ci arrivate vi viene quasi paura a girare per le strade, perché sembra che lo scontro arrivi da dietro l'angolo, non vi attacca nessuno, però può capitare l'imprevisto, adesso non vi dico altro, però può capitare, non vi sentite al sicuro all'interno di questa città. Questo ogni volta che ci tornavo per qualche missione o quando mi sono fermato qui a fare delle missioni, non mi è mai piaciuto più di tanto e non vedevo l'ora di andarmene. C'è anche qui il capo e ovviamente qui puoi fare un po' tutto quello che vuoi, insomma, perché è una città di fuorilegge appunto. E questo è il luogo in cui è il cratere dove si è schiantato il meteorite. Altra fazione sono i berserker che vivono all'interno di un forte e questa è la fazione a cui vi potrete unire, ma anche senza unirvi a loro potrete, se volete giocare Elex, non come un gioco di ruolo basato sulle armi da fuoco, sulle armi laser, sulle armi al plasma, ma su uno stile mediovale potrete qui trovare pane per i vostri clienti, perché loro possono usare il mana, hanno incantesimi e se voi deciderete di usare le armi, vedete usano queste balestre che sono comunque moderne e gli incantesimi, ma se deciderete di usare, che so, le spade e le asce, queste sono le armi bianche, sono le uniche che hanno i castoni, quindi potrete prendere il talento per mettere in castonare delle pietre che trovate per il mondo, come loot e missioni, e dare dei potenziamenti, quindi prenderà una connotazione puramente fantasy, quindi se vi piace giocarvelo così, lo potete fare anche così. Altra fazione che vi voglio far vedere è quella delle albe, c'era già nell'1, non avendo giocato l'1 non voglio dire stupidate, però insomma loro sono basate sull'Elex, loro estraggono l'Elex, danno una razione giornaliera a ogni membro per i loro compiti, ma sono anch'essi molto severi, se uno non ha dei criteri di efficienza sufficiente o si comporta male, può essere anche ucciso, quindi un bel ambientino anche questo, insomma se volete unirvi, questi hanno queste armature qui. Dopodiché avete i chierici, adesso io non vi dirò a quali mi sono unito, però insomma anche in gioco, vedendo quelli che sono i miei valori che ho voluto portare in gioco, cioè ho detto me lo voglio giocare così, ho visto che comunque sono gli stessi valori che hanno anche la fazione che ho scelto. I chierici diciamo che adorano questo dio macchina che è qui, adesso voi vedete che io sto volando un po' stile Iron Man, voi potrete sbloccare i talenti per usare al massimo il jetpack, ma una volta che finirete il gioco non avrete più il carburante che vedete in basso a destra, quindi io adesso posso volare liberamente e mi diventa tutto un po' più facile. Loro sono, penso, tra i più pacifici anche se in realtà sono in decadenza, quindi sono abbastanza decaduti e quindi ognuno ha più o meno dei valori contrapposti, quindi potrete scegliere chi volete, chierici, berserk, fuori legge, i morcon e le albe in alto. Ma, cosa che io non sapevo prima di iniziare il gioco, cioè proprio l'avevo iniziato così un po' alla cieca, voi avrete il vostro bastione, cioè c'è una minaccia di cui non vi dirò nulla, che minaccia il mondo, sempre che abbia a che fare con l'Elex ovviamente, e praticamente questo è il vostro bastione, e dovrete prendere tutte le persone e portarle qua, seguendo le varie missioni che vi danno potrete reclutare delle persone, ovviamente in queste persone quando accetteranno di unirsi qui potrete portarle con voi e farvi aiutare nei combattimenti. Tra l'altro è molto bello perché ci sono delle romance, sono tre mi pare, possibili, ma quando portate con voi un personaggio lui approva o disapprova le scelte a livello di dialogo che fate o di azione che fate, ma vi danno anche dei commenti, nel senso vi portate il robottino, lui fa analisi su minacce, possibilità di imboscate, cose del genere, altre persone invece magari disprezzano una fazione, voi siete in casa di quella fazione e sentite che continua a commentare, cioè sono un ottimo supporto, un'interfaccia diciamo che non si vede, che vi danno una visione, che vi danno comunque un aiuto all'interno della partita. L'ho trovato molto bello. Che altro da dire c'è? La storia mi è piaciuta molto, è lunga, il gioco è lunghissimo, non dovete avere altri giochi da giocare insieme, cioè dovete dedicarvi a questo. Se cercate qualcosa, e qua mi rivolgo a voi perché anch'io stesso cercavo qualcosa di simile, ma avendo finito già un Mass Effect, un The Witcher, tutti i giochi più famosi, un Dragon Age, non sapevo che gioco scegliere. Io cercavo effettivamente qualcosa che mi facesse toccare con mano la crescita del mio personaggio, voglio dire, all'inizio camminate così, volate giusto tre secondi e basta, e man mano andate avanti, armature potenti, i nemici che prima vi hanno il teschio sulla testa non ce l'hanno più, o ce l'hanno ma sono battibili con pochi colpi, una crescita veramente eccezionale. Soprattutto perché se guardate le abilità ce ne sono veramente tantissime. E credetemi, il mio personaggio, il gioco l'ho finito, calcolate che col livello qui sono, io ho ancora punti abilità 163 da spendere e punti talento per prendere queste di 22. Questo per dirvi che non dovete avere fretta e non dovete avere timore di non riuscire a fare quello che volete fare, perché il gioco vi permette di fare quello che volete. Ci vuole pazienza. E il bello di questo gioco, che vi incollerà adesso, è il fatto di dire, ok, voglio andare avanti con le missioni perché, uno, voglio scoprire come va avanti quella storia, o due, voglio salire di livello, devo raggiungere il livello per unirmi a con la fazione, perché alcune sono con un requisito di livello, o piuttosto perché voglio ottenere quei punti per poter maneggiare quell'arma, prendermi quel talento e cose del genere. E il vostro personaggio resterà tale. Come giocare un MMO, insomma, però lo giocate da soli, però il vostro personaggio cresce con voi e con la storia e vi consente di diventare comunque sempre più forti, di accedere sempre più a zone che prima magari vedete da lontano. Ad esempio, non so, vedete delle enormi cupole in lontananza lì, pieno di loot, pieno di nemici, tanta esperienza da fare, tanti oggetti da raccogliere, ma non ci potete andare. Appena livellate, appena magari potenziate, prendete un'abilità speciale piuttosto che un equipaggiamento, potete craftare l'equipaggiamento, potete upgradarlo, in diversi tier, potete craftarvi le pozioni, le munizioni, cioè ci sono un sacco di cose da fare. Ma la cosa su cui io mi soffermo sempre, come avevo fatto anche nella recensione di Kingdom Come Deliverance, può essere un ostacolo il fatto che sia macchinoso. Allora, macchinoso non è, tecnicamente sia un po' arretrato, ma lo sento io che mi impedisce. No, ovvio che se adesso gioco un gioco, non so, un Shadow of Mordor, insomma, una roba del genere, che tecnicamente è eccezionale, è giorno e la notte con questo. Ma non me ne frega niente, c'è il gioco veramente bellissimo. Io ho finito i Gothic, ho finito i Risen, Risen tutti tranne il trailer, a dire la verità. I Piranha Bytes sono i migliori in questo. Anche se, ecco, parlando, chiudendo in termini di difetti, su tutti uno, che è un mega spoiler che non voglio farvi, però mettete caso, in gioco succede, con la storia succede una cosa, per cui magari si deve provare per un dato evento della rabbia, del dolore, insomma, delle cose, nessuno ne frega niente. Insomma, gli interessati, diciamo, di questa sventura, insomma, non mostrano alcun... Poi, è un problema? No. È un peccato, sì, ma neanche così tanto, vi dico la verità, perché alla fine io penso che il gioco vi mostri le parti salienti di una storia. Poi quello che magari gli abitanti di questo borgo, piuttosto che di un'altra, di un'altra situazione, fanno poi, per conto loro, discutendone, così sono fatti loro, insomma, non viene mostrato. Quindi non è un The Witcher dove si perde un quarto d'ora solo per una secondaria dove c'è l'oste che ti porta da bere e si perde in chiacchiere inutili. Cioè, qua è molto più essenziale. Quindi ci può stare. È un difetto, sì, la narrazione non è un punto forte di questo gioco, a livello di cutscene, di cose del genere, perché non c'è niente. Si vede che comunque il budget è abbastanza ridotto, ma ridotto, ma ce ne fossero di open world così, pieni zeppi di oggetti, di segreti, di personaggi nascosti. Pensate che si citava a inizio gioco un personaggio del primo Elex, che io avevo visto, tra l'altro. Quando ho finito il gioco, devi passare a dire a tutti i personaggi, in vista che comunque hai finito la tua missione, per pianificare poi il futuro, che presumo sarà un Elex 3, il terzo della, questa pseudo, dovrebbe essere, trilogia, mi hanno targhettato come obiettivo di missione anche questo personaggio, che io non sapevo dove era, perché ne avevano parlato, ma non ero mai andato, non mi era mai interessato andare a trovarlo. Insomma, quindi, di cose da esplorare ce ne sono. Troverete un sacco di edifici tipo questo, questo è il bastione, però troverete tanti oggetti, e vedete, potete fare. Potete prendere le ricette, potete potenziare e craftare le vostre armi, insomma, adesso io vi ho mostrato anche un po' troppo. Consigliato? Assolutamente sì, però ricordatevi che non dovete avere, mio parere, è un consiglio mio da amico, insomma, è un po' come se voi venisse, lo dico ancora una volta, a casa mia, e vi faccio vedere il gioco che io ho appena finito, vi dico, prendilo, prendilo, che è bellissimo. Sì, vi dico questo, prendetelo, è bellissimo. Se vi piace un gioco di ruolo, avete già finito i migliori, se potete e non avete nulla da giocare, o siete dei completisti, e vi volete dedicare bene a una saga e spolparvela, giocatevi anche l'1, giocate l'1, lo finite, e poi giocate il 2. Vi vanno via minimo 100 ore, tra tutti e due, se non 200, se vi perdete via. Se volete iniziare dal 2, iniziate dal 2, vi perdete un po' di cose, come me, in altra onda, però non mi sento vuoto dentro per aver fatto questo. Mi è piaciuta, la storia mi è piaciuta. Ogni personaggio qui passo a fianco che a voi non vuol dire niente, io ci ho parlato, ci ho vissuto avventure, mi sono piaciuti, mi sono piaciuti meno, so io la fatica che ho fatto per portarli qui nel campo, insomma, ecco, da dire, non è uno di quei giochi piatti dove, cioè, voglio dire, se parlassimo insieme di The Witcher, un Dragon Age, potremmo citare alcuni eventi successi nella storia e farne una sorta di dibattito, dire, ah, quel personaggio non mi piaceva sin dall'inizio, oppure a me piaceva, ma poi, a me è sempre un figo quel personaggio lì, ok, lo fate per The Witcher, lo fate per Dragon Age, lo potete fare anche qua, a dire la verità, perché, non lo so, cito un nome, Rat, parlando con qualcuno di voi, qualcuno potrebbe dirmi, è un figo, c'era anche nell'uno, mi pare, e io vi dico, mi ha fatto un'ottima impressione all'inizio, poi un po' meno, poi ha ripreso punti, cioè, per dire, improvviso, non è che sto dicendo qualcosa che dovrebbe spoglierarvi qualcosa, perché assolutamente, sto vagando, come conosciamo, intanto sta arrivando la notte, ciclo giorno-notte, ovviamente non volerete come sto volando adesso, perché il jetpack sarà molto limitato, però il jetpack aiuta tantissimo, l'inventario, ecco l'ultima cosa, perché in live qualcuno lo chiedeva, in live mi si chiedeva se l'inventario era finito, no, allora, non c'è il peso, per fortuna, all'inizio c'è rimasto un po' male, ma ci sta, perché c'è veramente tanta, troppa roba da prendere, e non è un gioco che punta al realismo come può essere un Kingdom Come Deliverance, insomma, quindi, Elex 2, promosso tantissimo, contento di averlo finito, dopo più di un anno, no, quasi un anno dalla sua uscita, mi sono messo lì, mi sono dedicato solo a quello, video ne avevo già registrati un po', quindi sono riuscito a dedicarmici a pieno, anche esagerando un pochino a dire la verità, anche questa è un'altra che ho reclutato, fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete giocato, o se la visione di questo video vi è invogliato a prenderlo e provarlo, sicuramente dovete amare i giochi di ruolo, quelli lunghi, quelli pieni di dialoghi, quelli con combattimenti, ecco, io ho combattuto tanto con la spada all'inizio, ho combattuto tanto con le armi poi, la rotolata con il control, potete giocare con il pad, se siete più comidi, non è un Souls, può essere paragonato a un Dark Souls 1 come a livello tecnico, ma molto più fluido e meno incastroso, insomma, nelle varie cose, ma problemi non ne ho avuti, si combatte tranquillamente, il gioco non è eccessivamente difficile, adesso, qui c'è qualcosa fuori, c'è un disperso, vedete l'abilità per colpirlo alle spalle e fargli un botto di danno, io non l'ho mai presa e funziona per le armi a distanza, ora, io, per concludere, vi concludo in bellezza, così. Alla prossima e ciao ciao.